Ancora poche ore per decidere, l'offerta degli americani è sul tavolo, Onofrio Lopez sta valutando se cedere oppure avvalersi della clausola che gli permette di ripensare ad un'offerta che sarebbe già stata accettata. Sono momenti decisivi a livello societario per il Monopoli che potrebbe passare dall'attuale patronna agli americani. La piazza ha espresso la sua vicinanza a Lopez, invitandolo a restare al timone. Il numero 1 bianco-verde non ha ancora sciolto le riserve e potrebbe non presentarsi nello studio notarile di Lecce dove sarebbe fissato l'appuntamento. Nel frattempo la squadra continua a prepararsi per la trasferta di Pagani, gara che trasmetteremo in diretta e in esclusivo in chiaro su Antenna Sud 13 dove cercherà il sesto successo consecutivo. Mister Colombo recupera Ghiebre, tornato dalle due amichevoli della sua Burkina Faso contro Kosovo e Belgio, così come Natalucci che si è allenato con la Nazionale della Repubblica Dominicana. Non ci sarà Matteo Arena, piedato dal giudice sportivo, al suo posto probabile l'inserimento di Pambianchi come braccetto di destra della difesa. L'assenza di un under in retroguardia apre le porte a Biagio Morrone e Mediana e il playmaker campano agirà con Vassallo e Bussaglia, con Borrell e altro giocatore under che sarà il punto fermo in attacco accanto a uno tra Grandolfo e Starita.